Accoglienza e protezione delle donne e dei minori, supporto psicologico e legale, orientamento e ascolto, percorsi verso l'autonomia. A partire dall'esperienza di Casa Fiorinda che il Comune di Napoli gestisce in collaborazione con la cooperativa Daedalus, si è tenuto nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino un importante convegno per mettere a confronto informazioni e metodologie per il contrasto alla violenza di genere. Pregiudizi e falsi luoghi comuni sull'argomento sono stati evidenziati da uno studio presentato dalla dottoressa Bozzaotra. Uno dei pregiudizi più evidenti che è condiviso dalla maggior parte delle persone è che la violenza maschile contro le donne è a carico di alcune fasce di popolazione che hanno particolari caratteristiche, per esempio che hanno una bassa cultura o sono extracomunitari o hanno dei disturbi di tipo psicopatologico. Sappiamo benissimo che il fenomeno della violenza maschile contro le donne è un fenomeno trasversale che appartiene indipendentemente da altri aspetti un po' a tutti. Un atto di violenza non è solo un atto di violenza, un atto di violenza è tutte le emozioni e tutte le storie che intorno a quell'atto poi si costruiscono. Dal 2011 ad oggi Casa Fiorinda ha accolto e messo in protezione 93 donne e 47 figli minori. In prospettiva si punta a dare più continuità e più forza a questo importante servizio. Casa Fiorinda per noi è chiaramente un orgoglio intanto perché è una struttura confiscata alla Camurra che quindi acquista in questo modo, in questo utilizzo, una funzione ancora più rilevante e importante. Noi in questi anni abbiamo costruito gli strumenti anche amministrativi per dare continuità alle attività di Casa Fiorinda e quindi possiamo dire che fino al 2020 le attività di Casa Fiorinda saranno garantite ma soprattutto saranno anche ampliate. Noi abbiamo da Casa di Accoglienza e Centro di Antiviolenza abbiamo voluto affiancare ulteriori attività, quelle a sostegno dell'autonomia e dell'autodeterminazione delle donne che a Casa Fiorinda possono portare avanti un percorso importante di autonomia, anche di prospettiva per il loro futuro. Si guarisce da tutto, anche dalla violenza.